Dunque, sono andato un po' più veloce e ho tracciato, insomma, questo che è il percorso della condotta principale, dell'area di nostro interesse. E' passato un giorno rispetto a quando ho effettuato appunto questo tracciamento e come puoi ben vedere adesso nella tabella attributi sono presenti praticamente tre elementi, tre future, con questa precisa data, 3 novembre 2020. Andiamo adesso a mettere appunto proprio in azione quello che è la funzione di automatizzazione che abbiamo visto ieri, che abbiamo attivato nel precedente video. Quindi io qui ho questo tratto, finisce in questo punto e diciamo che il tratto successivo, ecco qui, parte da questo incrocio e prosegue fino al prossimo grande incrocio. Quindi voglio praticamente spezzare questo tratto. Siccome io ora ho tracciato tutta la condotta fino alla fine, se, inserendo le proprietà relative della condotta in esame, se adesso vado semplicemente a tagliare in questo punto la condotta, ecco qui, è stata tagliata e ne abbiamo due distinte, queste due distinte tratte adesso avranno un valore aggiornato, è un valore relativo sia alla lunghezza, sia aggiornata, sia è stata ricalcolata, verrà autogenerato un nuovo future ID per il tratto nuovo, ma anche la data è stata subito aggiornata a quando è stata appunto modificata la geometria di questo tratto. E sono state duplicate, prese praticamente a pari pari, le informazioni presenti in quelli che erano i campi non, chiamiamoli, automatizzati, ma insomma i campi standard. Insomma questa è una funzionalità molto molto comoda dal mio punto di vista, perché ecco mi consente di andare in maniera molto spedita e veloce, se so ad esempio che in questo tratto appunto la pendenza è l'1%, il materiale è sempre lo stesso, il diametro è sempre lo stesso, mi faccio tutto il tratto in maniera molto rapida e veloce, ho inserito quindi soltanto una volta le informazioni all'interno del forma che ho customizzato, dopodiché passo con la mia bella forbicetta e taglio tutti i tratti in n tronconi di mio interesse. Questo è per quel che riguarda l'aspetto delle tratte. Andiamo ora a fare lo stesso lavoro su quelli che sono gli elementi puntuali, come li abbiamo chiamati. Anche in questo caso io metto hidden il feature ID, il tipo può essere tranquillamente inserito come value map, e quindi andiamo a inserire quelle che sono le nostre informazioni, fondamentalmente inseriremo insomma tre tipologie di elementi puntuali, qui c'è il chiusino, qui lo chiamiamo chiusino di ispezione, poi c'è la caditoia, e il pozzetto di lavaggio, pozzetto, pozzetto di lavaggio. Quindi abbiamo questi tre elementi, not null e come altro video spuntiamo anche qui questa impostazione. Passiamo al dato relativo alle coordinate. Grazie a tutti.